Cambia l'allenatore in casa Biancoverde e di colpo cambia anche il vento. L'autore del Miracolo, perché di Miracolo si tratta, porta il nome di Gianluca Colavitto, che torna nella Marsica e nel giro di soli tre giorni restituisce a tutto l'ambiente un bel po' di fiducia e di autostima, elementi che nel corso degli ultimi due mesi si erano completamente smarriti. Uno striscione della curva e un minuto di assoluto silenzio per ricordare Sergio Ranieri, tifoso avezzanese scomparso in settimana. E poi si può incominciare, pur se tra mille timori di non farcela, ad interrompere la striscia di quattro sconfitte interne consecutive. Ma bastano poche battute per intuire che oggi la musica sarà diversa, perché tra i padroni di casa non c'è nessuno che tiri indietro la gamba e il tanto temuto ex Cerone alla fine sarà protagonista di una gara assolutamente anonima. E come accade quando in panchina c'è un nuovo tecnico, le prime novità iniziano dalla formazione, che vede Pierantozzi titolare nel ruolo di difensore centrale e alla fine il numero 6 sarà tra i migliori in assoluto. Avvio positivo dei marsicani che a centrocampo manovrano con maggiore dinamismo e con altrettanto maggiore precisione, almeno rispetto al recente passato. Di Renzo gioca più accentrato e De Roccis si districa bene sulla fascia. La prima azione degna di nota arriva al settimo ed è dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con De Roccis che rimette all'indietro per Padovani, che a sua volta prova la rovesciata ma senza successo. La San Giustese sta sulle sue e Sinato non corre mai pericoli, al contrario del suo collega ospite Chiodini, che al diciassettesimo rischia la capitolazione sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Crass, con crosse contro crosse, scusate il gioco di parole, che spedisce poi la palla sui piedi di Manari, che calcia forte, ma deve fare i conti con il palo che respinge beffardamente la sfera. Ancora è sempre Vezzano la mezz'ora, palla a Manari, che controlla e calcia a giro, ma stavolta è la traversa a negare all'attaccante la soddisfazione del gol, a Chiodini ormai battuto. Sembra un'altra di quelle giornate sfigate per i marsicani, che rischiano qualcosa poco più avanti su un cross di Cerone, allontanato a pugni uniti da Sinato, ma più per timore che per effettivo pericolo. E per chiudere i primi 45 vi mostriamo questo calcio di punizione di Manari, con palla verso il secondo palo e con la difesa ospite, che rischia un po', ma riesce poi a contenere i danni. Vezzano quindi attento e deciso su ogni pallone, ma sarà così anche nel secondo tempo? Per la conferma non resta che aspettare il fischio del direttore di gara e al diciassettesimo, sugli sviluppi del sesto angolo, la palla arriva a Manari, che carica al destro e va a scheggiare la traversa tra il disappunto dei suoi tifosi. Prova e riprova alla fine, il gol arriva ed è un gol più che meritato. È il ventisettesimo, quando De Rocci si imbuca per Besana, che entra in area, va sul fondo e crossa a basso dalla parte opposta, dove c'è Manari che non perdona, destro secco e palla in fondo al sacco. La risposta della Sangiustese è in questo tentativo di Pezzotti, che va via in velocità sulla fascia sinistra e tira, ma Sinato si allunga a terra e riesce a deviare di quel tanto che basta per allontanare il pericolo. L'ultimo sussulto, la partita, lo offre al trentottesimo ed è ancora di marca locale, con il bravo di Renzo che da 20 metri costringe Chiodini ad alzare sopra la traversa il suo bolide. Tre minuti di recupero e alla fine festa grande per l'Avezzano ritrovata, un Avezzano che con questa determinazione potrà giocarsela contro qualsiasi avversario. In casa Biancoverde da oggi la disperazione ha lasciato decisamente il posto alla speranza. Finisce il silenzio stampa, ma finisce soprattutto il periodo inero dell'Avezzano. Presidente D'Alessandro, finalmente una bella partita, una bella vittoria. È cambiato qualcosa in settimana? Colavitto è riuscito a riportare anche l'entusiasmo? Sì, è cambiato qualcosa. Diciamo che con l'avvento di Colavitto in panchina adesso abbiamo ritrovato quello che ci serviva secondo me, cioè la grinda di voler essere i più forti in campo, di arrivare prima sulla palla e oggi si è visto. Abbiamo messo in difficoltà una signora squadra che non ha mai tirato in porta e abbiamo avuto sempre il pallino del gioco nelle nostre mani. Quindi non era scarsa prima questa squadra? Perché insomma oggi ha dimostrato che in quarta serie ci può stare. Ma non è né un discorso di essere scarsi né di essere fenomeni oggi, cioè assolutamente oggi non abbiamo fatto niente. Tre punti importantissimi per la classifica, però è da qui che ripartiamo, è da qui che iniziamo tutti quanti insieme, convinti che l'obiettivo è alla nostra portata. Senti, settimana si era sentita qualche voce, qualcuno arriva, qualcuno non arriva, un difensore, un centrocampista. Novità? Vediamo, perché il mister vuole prima conoscere bene la Rosa, adesso sono due giorni chiaramente che è qui con noi, quindi vuole prima conoscere bene i nostri calciatori, poi se c'è bisogno di intervenire sul mercato, la società sicuramente non si tirerà indietro. Senti, con te abbiamo un piccolo debito, qualche settimana fa nel servizio dedicato, io dico alla Marsica Calcio, abbiamo sbagliato, perché Marsica Calcio è anche Avezzano, ti dobbiamo questa rettifica? Abbiamo sbagliato anche oggi, Marsica Calcio non è Avezzano, Marsica Calcio è stata acquisita dalla Avezzano, pertanto non esiste più ed esiste solo l'Avezzano. Ad Avezzano c'è solo l'Avezzano che fa calcio, basta, nessun altro. Il settore giovanile è nostro, lo rappresentiamo noi, i ragazzi sono nostri, li cresciamo noi perché gli vogliamo bene noi. E stanno andando bene mi sembra quest'anno? Stanno andando bene, sì, stanno andando bene. Senti, la prossima doccia? La prossima doccia, speriamo domenica prossima, a Francavilla. E arriva anche Gianluca Colavitto, insomma è cambiato tutto qui a Avezzano, hai trovato una situazione al limite del disperato e invece insomma dopo questa partita questa squadra dimostra di poterci stare in quarta serie. Io ho accettato questa sfida perché pensavo di avere un gruppo di qualità e proprio per questo ho accettato. Non penso di aver, dopo 15 anni che alleno, non penso di essere cascato nel buio. Il Presidente mi ha trasmesso tanto entusiasmo e quindi tanta voglia di tirarsi fuori da questa situazione. Quindi ho accettato ben volentieri. Poi per me si tratta di lavoro, quindi chi è padre di famiglia capisce che il lavoro è lavoro. Senti, questa squadra mancava di grinta, di volontà, di terminazione almeno fino a qualche giorno fa. Come sei riuscito a spronare questi ragazzi? No, guarda, io a questa domanda che mi fai preferisco glissare. Dico solo che ringrazio il mister precedente Gian Paolo al quale ho ereditato una coscienza di squadra, una coscienza di personalità all'interno di questo gruppo. Quindi complimenti li faccio anche a lui, che è un mio collega e che stimo. Si salverà l'Avezzano in che modo e con quanti punti? No, ho detto ai ragazzi, il nostro obiettivo è dare il massimo partita per partita. I punti non li so, non mi interessa. So che i ragazzi è giusto che oggi festeggino. Sono contenti che il mister pensi alla trasferta di Francavilla. Stefano Senigagliesi, una partita che pensavate sicuramente di non perdere. Che è successo oggi? Insomma, siete terzi in classifica. Pensavamo di non perdere e tanta roba. Noi avevamo tanta paura di questa partita e si è dimostrata tale. Immaginavamo anche le alte motivazioni comunque dell'Avezzano con il cambio dell'allenatore. Una squadra che ha individualità, quindi pensare di non perdere mi sembra un po' troppo esagerato. Che cambia per il vostro campionato con questa sconfitta? Niente, assolutamente niente. Quello che avevamo raggiunto è rimasto. Noi siamo nati e cresciuti per raggiungere la salvezza. Stiamo cavalcando un sogno. Adesso continueremo, visto che i risultati non ci hanno poi così penalizzato. Era la terza partita in un campo difficile, con tanti acciacchi e tante problematiche. e quindi poteva anche venire fuori una partita di questo tipo. Complimenti all'Avezzano perché ha meritato di vincere, ha giocato bene e quindi accettiamola. Se l'aspettavo un avversario così carico, così grintoso? Sì, perché comunque la parola Lupi non sarà messa a caso. È una squadra, una società con blasone, con importanza. e quindi mi aspettavo questo tipo di partita e questo tipo di clima ed è stato così, purtroppo.